Io vorrei cominciare subito con Marco Ferrante, perché per scrivere il suo libro Marco Ferrante ha anche parlato a lungo, ha conosciuto personalmente Marchionni. Sì, dopo il 2005 erano gli anni più complicati, perché c'era stata anche la fase di quella cosa che poi sarebbe passata alla cronaca, come tutto il caso Equity Swap, cioè il tentativo dell'azionista di risalire al 30% neutralizzando l'ingresso delle banche nel capitale della Fiat, che in realtà è stata una fase centrale, perché senza un azionista stabile Marchionni non sarebbe riuscito a fare quello che ha fatto, come tutti i manager, ha bisogno di stabilità. Poi lui è stato straordinariamente abile nel portare a termine un'operazione straordinaria, basta guardare i numeri, dai 6 miliardi di capitalizzazione dell'epoca agli 80 pre-Trump, cioè pre-minaccia di sanzioni sui dati, quello dà la misura delle sue capacità. In quella fase, appunto, avendomi chiesto l'editore per cui scrivevo di fare un libro sul Marchionni, io gli chiesi, siccome il Foglio, io scrivo per il Foglio, il Foglio era in realtà l'unico giornale che ne parlava bene, cioè che gli dava una chance. Neanche la stampa ne parlava bene, neanche il giornale, il loro giornale. No, ma era una situazione veramente estremamente complessa, sì, sì, assolutamente, era impossibile, erano tutti molto misurati, attenti a capire. Non parleremo di questo tema della solitudine, diciamo, poi se è vero se è stato vero. Sì, c'era una straordinaria solitudine da cui era circondato. Allora, in quella fase, dovendo raccontare la storia di quest'uomo, che era un uomo naturalmente senza un passato italiano, perché anche questa è una storia interessante, lui va via dall'Italia a 14 anni, quindi non ha nessuna cultura se non familiare del paese, però non ha abitudine neanche ai normali rapporti di forza, potere, di relazioni che si stabiliscono, non so, nell'adolescenza scolastica, non so come dire, era un italiano all'estero, ecco, quindi io gli chiesi, avendo stabilito con lui un minimo di rapporto, gli chiesi se fosse disponibile a darmi una mano o a scrivere questo, diciamo a non dire delle sciocchezze, perché questo era il punto. E lui quindi accettò, ci vedemmo per 4-5 volte, però l'accordo era di non utilizzare, non c'erano virgolettati. E quindi, insomma, in quella fase io l'ho visto spesso, naturalmente, per come si può stabilire un rapporto tra un giornalista, tra l'altro un giornalista che deve scrivere un libro su di te e un signore che ti deve raccontare delle cose di se stesso. E le raccontò? Sì, è un uomo molto schietto, molto franco, totalmente diverso, ecco, diciamo, la cosa che più colpisce di Marchionne è il fatto di non avere nessun filtro, diciamo, il giornalismo che si occupa di economia, di poteri finanziari, c'ha sempre il problema di doversi cimentare con persone che non hanno voglia di essere particolarmente franche, perché non è il loro, diciamo, la mediaticità è soltanto un aspetto marginale del loro lavoro. Ecco, Marchionne era una persona molto franca, diretta, diceva tutto quello che voleva dire e non aveva paura di dire delle cose, non ha paura di dire delle cose sconvenienti oppure, ecco, per esempio i giudizi, sempre estremamente franco nei giudizi. E questa cosa qui credo che poi sia stata la base del suo successo carismatico, sia con i dipendenti, sia con la squadra, sia anche con le controparti con cui ha avuto a che fare.